ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi voglio farvi conoscere un'altra telecamera di video sorveglianza e la citronix 750 c che funziona con la scheda sim quindi una telecamera in 4g che può essere utilizzata in tutte quelle circostanze dove non abbiamo il wifi per esempio byte per esempio garage box auto per esempio come la utilizza un mio amico per sorvegliare i cavalli lui è un appassionato ai cavalli l'ha posizionato davanti alla stalla non questa perché questo è da interno ma quella esterno che già vi ho fatto conoscere e riesce a osservare tutta la situazione grazie alla telecamera 4g già vi ho fatto conoscere tante telecamere che costavano un bel po altre che costavano poco beh citronix effettivamente anche se non ci dà prestazioni da urlo perché costa poco e quindi non ha risoluzione altissime non ha un'applicazione ricchissima di funzioni però ci permette di tenere sotto controllo e vedere per esempio dentro un garage se abbiamo i mezzi ancora a posto se c'è qualche porta aperta ma se si tratta di animali di poterli sorvegliare non abbiamo bisogno di una risoluzione altissima in alcune circostanze ci va bene anche una telecamera che costa poco che ha una risoluzione buona per poter vedere il tutto che ha anche la funzione per vedere al buio e che ci permette di utilizzarla dove non c'è il wifi mettiamolo sul bancone e vediamola ma ricordatevi che vi lascio il link giù associato ad un codice di sconto almeno spero di ottenerlo perché costa 69 euro e 99 non potreste pagarla ancora di meno ora osserviamola quindi sul bancone abbiamo la telecamera e la scatola con chi viene venduta metto in sovraimpressione anche il video dell'unboxing troviamo sulla parte superiore manuale di istruzioni poi ovviamente troviamo all'interno tutti i vari accessori per poterla utilizzare compresi i cavi di alimentazione il cavo ethernet per collegarla al modem l'alimentatore e il supporto orientabile per poterla fissare eventualmente ad una parete ma può essere utilizzata anche poggiata su una superficie infatti abbiamo dei piedini in gomma allora osserviamo quindi la telecamera abbiamo sulla parte posteriore un'antenna orientabile sia a destra che a sinistra e ovviamente si può anche puntare verso l'alto oppure mettere posizionata in questo modo nella parte posteriore abbiamo l'ingresso per la presa usb di tipo c con l'ingresso in 5 volt questa invece la presa ethernet nella parte posteriore laterale troviamo sia l'altoparlante che il microfono la lente circondata da questi led sono dei led sia di infrarossi che led per illuminare sulla parte bassa stavo dimenticando di farvi vedere pure che c'è questo alloggiamento per poterla fissare sul supporto che si si può fissare ad una parete grazie alle viti e tasselli che vengono date in dotazione o qualunque altro tipo di tassello forse meglio se utilizzate qualcuno di buona qualità dopodiché si inserisce nella parte inferiore e si ruota in questo modo quindi abbiamo la possibilità di snodarlo in alto e in basso per avere la posizione della telecamera eventualmente orientabile un po' meglio oppure possiamo girarlo in questo modo per orientarlo verso destra e verso sinistra oppure possiamo utilizzare questo che va avvitato su una superficie dopo di che si utilizza allo stesso modo si fa ruotare e si incastra sulla base abbiamo detto che non si può utilizzare con il wifi ma si può utilizzare dove abbiamo un router infatti abbiamo l'ingresso per il cavo ethernet se utilizziamo questo cavo per molto corto dobbiamo posizionarlo sicuramente molto molto vicino altrimenti con un cavo un pochettino più lungo possiamo semplicemente utilizzarla sfruttando la connessione via cavo comunque non ha il wifi si può utilizzare dove c'è un router che abbiamo il wifi ma sfruttando o il cavo oppure in alternativa solo ed esclusivamente la sim non possiamo utilizzarla diversamente senza fili e la telecamera è orientabile 360 gradi per quanto riguarda lo spostamento laterale e poi si può spostare anche verso l'alto e verso il basso questo invece all'alloggiamento come vedete per la micro sd per poter registrare vari filmati e già troviamo una sim card all'interno questa viene data in dotazione poi potete sia ricaricarla che eventualmente utilizzare anche altre schede e questo è il tastino di reset quindi colleghiamola subito all'alimentazione e vi faccio vedere come funziona collegata all'alimentazione si accenderanno i vari led e ci darà la possibilità quindi di utilizzarla e associarla all'applicazione per prima cosa inquadriamo il codice qr come vedete già la telecamera inizia a muoversi fa i suoi check ma noi inquadriamo il codice qr si apre youtube e ci va a vedere un tutorial per poter fare l'installazione configurazione e così via ma noi vogliamo scaricare l'applicazione ok dopo aver dato i vari consensi quindi facciamo la registrazione oppure se siamo già registrati inseriamo le credenziali e accediamo all'applicazione ho ricevuto quindi l'email da parte di citronix adesso mi chiede di aggiungere la telecamera semplicemente andiamo sul tipo di telecamera è una telecamera 4g mi chiede di inquadrare il codice qr che si trova sulla parte bassa della telecamera diamo il consenso per accedere alla telecamera dopodiché inquadro e quindi clicchiamo su aggiungi mi propone di scegliere fra uno di questi nomi chiamiamola ufficio confermiamo e adesso la telecamera è già collegata come vedete è velocissimo la telecamera utilizza una password di default dell'amministratore per motivi di privacy e sicurezza si chiede di modificare la password diamo ok dopodiché inseriamo una nuova password in modo da avere un accesso sicuro password modificata adesso ho accesso alla mia telecamera come vedete il pallino di colore verde quindi posso consultare l'applicazione e vedere quello che sta inquadrando clicchiamo e come vedete abbiamo l'inquadratura di quello che abbiamo di fronte ci sono pure le istruzioni su come spostarci quindi con le varie freccette essendo una telecamera che si può girare 360 gradi in questo modo riusciamo a spostarci come vedete la telecamera si gira andiamo da uno oppure dall'altro lato semplicemente toccando il display lo stesso per quanto riguarda la salita basta fare in questo modo riusciamo ad inquadrare in alto in basso oppure a ruotare in questo caso ovviamente stiamo consumando dei dati giriamola un poco verso di noi come vedete la risoluzione non è altissima anche se in questo caso stiamo utilizzando la risoluzione bassa e questo può essere un tipo di risoluzione buono per poter osservare per esempio un bambino che dorme per poter vedere gli animali all'interno della stalla come fa il mio amico e così via però se abbiamo bisogno di vedere qualcosa in modo più dettagliato possiamo utilizzare l'alta risoluzione andando su sd si apre questo fumetto clicchiamo hd quindi alta definizione e avremo una risoluzione maggiore per quanto riguarda tutti i dettagli di quello che sta inquadrando infatti come vedete riusciamo a distinguere praticamente tutto si vede tutto per bene andiamo verso il basso come vedete ho cliccato sul display e quindi l'inquadratura si sposta possiamo spostare come vogliamo in base al traffico che decidiamo di utilizzare quindi le varie ricariche che faremo nelle schede ovviamente con verrà utilizzare la bassa oppure l'alta risoluzione abbiamo anche la possibilità di utilizzare questa sorta di mouse per spostarci mettiamola di nuovo in bassa risoluzione andando su questo menu invece abbiamo la possibilità di specchiare l'inquadratura lo zoom ottico quindi possiamo zoomare possiamo anche regolare la messa a fuoco per poter decidere in quale punto mettere a fuoco dell'ambiente questa invece serve per pre impostare un punto quindi se noi vogliamo stabilire in quale punto deve andare a inquadrare e averlo come posizione pre impostata selezioneremo quel punto dopodiché la telecamera andrà sempre a posizionarsi in quel punto questo invece serve per poter regolare il volume quindi cliccando su questo decideremo il volume in ingresso e il volume in uscita e da questo comando invece alla modalità notturna quindi cliccando si accenderanno poi i led se noi vogliamo la luminosità dei led quindi vogliamo vedere di sera a colori oppure possiamo utilizzare la modalità intelligente che gestisce in base alla luminosità dell'ambiente quale tipologia utilizzare oppure possiamo utilizzare gli infrarossi dipende dall'ambiente da quello che vogliamo osservare per esempio in uno spazio privato vogliamo riconoscere se sta passando un cane di colore beige di colore nero poi gli infrarossi non si distingue bene lo stesso se si tratta di un veicolo vogliamo capire di che colore sia se rosso grigio con l'infrarossi non si capisce invece possiamo vederla colore utilizzando i led spegniamo quindi le luci e vediamo se si accendono anche con una bassa luminosità e allora appena chiuso tutte le finestre le porte ho inciampato pure perché sono al buio questo conferma di quello che sto dicendo e come vedete la telecamera si è accesa quindi abbiamo la possibilità di vedere a colori quello che sta inquadrando praticamente in tempo reale e quindi riusciamo a distinguere tutto quello che vogliamo però in questo modo possibilmente disturberemo chi si trova nell'ambiente se stiamo sorvegliando il bimbo che dorme in quel caso utilizzeremo l'infrarossi quindi andiamo nell'altro comando mettiamo ordinario in questo caso si accendono gli infrarossi ok e come vedete riusciamo a vedere con gli infrarossi vi faccio un inquadratura così vi faccio vedere come si vedono i volti umani ok questo sono io sempre in bassa risoluzione però come vedete riuscita a distinguere se un bimbo che dorme ok non sono un bimbo ma lo sono stato e quindi se un bimbo sta dormendo riuscita tranquillamente a vedere se gli occhi chiusi oppure se agli occhi aperti e capire se eventualmente scusate ho spostato l'inquadratura ma comunque penso si sia visto riuscita a capire se vostro figlio sto dormendo oppure no ovviamente se siete in una casa avrete sicuramente il wifi quindi mi serve solo come esempio per farvi capire quello che voglio dirvi ma utilizzandolo anche come fa il mio amico per la stalla eccetera come avete visto acceso le luci e si sono spenti gli infrarossi quindi velocissimo vi faccio vedere spegniamo di nuovo il tempo di capire che al buio che si sono accesi di nuovo gli infrarossi riaccendo la luce e si spengono praticamente subito gli infrarossi e ritorno a colori vediamo anche la modalità di comunicazione quindi questo serve per poter ricevere l'audio cliccando in questo modo come vedete c'è il ritorno stacchiamo lo ok questo invece è l'altoparlante o meglio il microfono che mi serve per comunicare quindi attiviamolo ok consentiamo bisogna dare tutti i vari consensi premere a lungo in questo modo io parlo e l'audio esce dall'altoparlante ok rilasciandolo invece si interrompe come un walkie talkie quindi premiamo e parliamo ci facciamo sentire dopodiché stacchiamo perfetto comodissimo questo invece serve per registrare i video in questo caso sta registrando un video che però verrà salvato sulla memoria del telefono non registrerà sulla sim perché non l'ho inserita quest'altro invece serve per scattare le fotografie quindi istantanea salvata guardiamo anche le varie impostazioni quindi abbiamo le impostazioni sul cloud poi abbiamo le impostazioni sul 4g vi ricordo di utilizzare una scheda che non deve avere il codice pin se utilizzate una scheda di un operatore con il codice pin dovete rimuoverlo altrimenti non riesce ad utilizzarla poi abbiamo la possibilità di cambiare la password gestione notifica degli allarmi perché ovviamente ci avvisa quando ci sono degli eventi importanti poi abbiamo le impostazioni che riguardano il video per quanto riguarda la risoluzione è anche iers quindi andiamo indietro abbiamo l'impostazione dell'audio quindi come vi facciamo vedere poco fa per il volume sia in ingresso che in uscita poi le varie impostazioni che riguardano l'orario impostazione predefinita del dispositivo le informazioni sul dispositivo per per vedere eventualmente il firmware eventuali aggiornamenti e così via ma diamo un'occhiata anche alla questione degli allarmi quindi le notifiche eccetera come vedete abbiamo la possibilità di attivare le notifiche push in questo modo riceveremo delle notifiche sul telefonino quando percepirà per esempio un movimento passaggio di una persona davanti all'obiettivo poi abbiamo la possibilità di avere anche un allarme con l'intelligenza artificiale per quanto possa avere un intelligenza artificiale una telecamera così economica e l'attivazione dell'allarme e ci chiede cosa fare per esempio con questo comando possiamo attivare la funzione di allarme e il dispositivo emette quindi una sirena che la durata dello stesso tipo di allarme che può attivare o meno e poi in base al rilevamento del movimento possiamo decidere sia l'area e anche il livello di sensibilità quindi lo vogliamo decidere che deve inquadrare solamente da una parte rispetto per esempio all'ingresso di casa allora selezioniamo questa zona e gli diamo un livello di sensibilità se non volete utilizzare una scheda sd per salvare i dati avete la possibilità anche di attivare un abbonamento non è obbligatorio se volete farlo per sette giorni avete una prova gratuita altrimenti poi potete attivarlo solo per i periodi in questo modo i video e le foto verranno salvate direttamente sul cloud e potrete consultarle in qualunque momento ma torniamo nella schermata principale la vediamo con lo schermo in verticale vi faccio vedere che scorrendo verso destra abbiamo la possibilità anche di spostarci in questo modo quindi molto molto più veloce per quanto riguarda i comandi abbiamo anche la possibilità di zoomare quindi lo zoom si fa con questo comando e non si fa direttamente con le dita scorriamo ancora verso destra e abbiamo gli stessi comandi che avevamo visto poco fa quindi la possibilità di ribaltarla sia per quanto riguarda il ribaltamento speculare e per quanto riguarda il ribaltamento sempre speculare ma in verticale poi abbiamo altre funzioni che sono quelle che avete visto poco fa anche l'inseguimento intelligente vediamo se riesce a tracciarmi questa è l'inquadratura che vedete ovviamente la vedrete ribaltata perché io mi sposterò verso destra la telecamera si sposterà verso destra ma voi qua lo vedrete al contrario perché dovrebbe stare girato in questo modo quindi vi faccio vedere la funzione di tracciamento intelligente e arrivano anche le notifiche sul telefono quindi la metto da questa parte dovreste riuscire a vedere bene almeno spero mettiamo questo così se si riesce a vedere un po meglio senza tanti riflessi allora mi metto davanti alla telecamera dovrebbe riconoscermi mi sposto e in teoria dovrebbe seguirmi ok infatti la telecamera mi sta seguendo è arrivata la notifica come vedete sul telefonino mi sposto di nuovo e dovrebbe riuscire a inquadrarmi nuovamente ok se non è velocissimo mi mantiene comunque dentro l'inquadratura mi sposto nuovamente un poco più velocemente vediamo se è anche in questo caso effettivamente mi segue però non mi c'entra nell'inquadratura ecco ora lo sta facendo non mi c'entra subito nell'inquadratura mi mantiene all'interno dell'inquadratura finché io sono dentro l'inquadratura non si sposta se poi mi sposto velocemente ok si effettivamente io continuo a spostarmi e mi segue proviamo anche abbassandomi in questo modo vado giù ok no così non mi sta seguendo quindi comunque funziona non è proprio il massimo del funzionamento per quanto riguarda il tracciamento intelligente almeno in queste condizioni di luce però a questo punto proviamo anche con gli infrarossi vediamo se in questo modo mi segue si anche con gli infrarossi mi sta seguendo c'è anche la notifica va bene dai diciamo che funziona non al cento per cento però comunque funziona e non riuscita a vedermi bene perché ovviamente c'è il riflesso sull'inquadratura ok va bene dai accendiamo di nuove luci e quindi ragazzi come avete visto la telecamera economica però funziona fa il suo non promette miracoli non fa miracoli a una risoluzione diciamo che non è altissima però per tutte quelle circostanze dove non avete alternativa dove non avete internet non potete andare a fare un contratto per una connessione internet con tanto di modem per tenere solamente una telecamera di videosorveglianza mettete una telecamera di questo tipo mettete una schedina non chiedetevi quanto si spende quanto costa a mettere le schedine ci sono tantissime offerte guardate su internet eventualmente trovo qualcosa lo metterò giù nel link del primo commento nella descrizione potete anche ricaricare la scheda che vi danno loro ma poi dipende tutto dal gestore dalle tariffe insomma da quello che vi viene proposto poi per fare questo tipo di connessione vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione se pensate che questa telecamera possa soddisfare le vostre esigenze allora cliccate giù nel link eventualmente trovate codice in sconto ancora meglio e l'acquistata scontata vi ringrazio mettete mi piace se il video vi è piaciuto ovviamente altrimenti non fate nulla non mettete il non mi piace cliccate sulla campanella dopo essere iscritti ci vediamo a tutti i prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto